Ben ritrovati in primo piano oggi l'impegno della Chiesa nel sociale ma anche le polemiche che si riferiscono all'uso dei simboli religiosi in politica. Per parlare di questi argomenti abbiamo invitato in studio Don Vitaliano della Sala, parloco di Mercogliano, intanto ben ritrovato Don Vitaliano, grazie come sempre per la disponibilità, vice direttore della Caritas, premiato al Tom Marillo d'Oro, questo premio che mette in risalto le eccellenze dell'Irpinia, gli Irpini illustri, un premio che Don Vitaliano ha meritato per il suo impegno nel sociale, come dicevamo, ma anche per le posizioni espresse sulla questione migranti, un premio che Don Vitaliano ha voluto dedicare ai volontari di questo territorio, perché? Perché non si lavora mai da soli, tu sei la punta dell'iceberg, il prete di solito appare, ma la Caritas funziona perché ci sono tantissimi volontari che la fanno funzionare e immagino in Irpinia le tante associazioni di volontariato sono veramente un'eccellenza del nostro territorio, sia nel campo dell'ospitalità che nel campo dell'assistenza alle famiglie disagiate, io giro i quartieri e vedo tantissime persone di diverse associazioni confessionali o laiche che fanno tanto bene, allora mi è sembrato presuntuoso fare la parte del protagonista, a me è sembrato più giusto condividerlo insomma con le tante persone che forse in maniera meno eclatante della mia, ma fanno un lavoro a volte anche più duro e più gravoso di quello che faccio io. Ecco, la Chiesa e la Caritas spesso coprono quelli che sono i vuoti delle istituzioni nelle politiche sociali, perché gli amministratori, la politica in genere è poco attenta ai bisogni dei cittadini? Ma perché probabilmente quelle fasce di popolazione non vanno nemmeno a votare semmai, quindi il calcolo politico è che non si guadagnano voti o a volte perché in realtà è così, è accuso stare accanto alle persone fragili, alle persone che vivono il disagio, però bisogna farlo ed è anche vero che spesso alcune amministrazioni del nostro territorio, se è vero che a fatica si pongono accanto ai fragili, poi è anche vero che semmai delegano le associazioni, in questo caso la Caritas per quanto ne so, cioè dando dei contributi che poi noi mettiamo al servizio appunto delle persone. Insomma, sarebbe bello che funzionasse, che i politici si rendessero conto che forse aiutare i deboli è il loro ruolo principale, se non lo fanno loro noi lo facciamo volentieri. Ecco, il bescovo di Avellino Aiello ha dato dei segnali molto significativi agli amministratori locali, soprattutto per quanto riguarda il decoro urbano, ricordo l'impegno sia per Piazza Libertà che per il Parco Palatucci e la Chiesa negli ultimi tempi ha avviato anche una discussione rispetto a quelle che sono le tematiche sociali, penso alla piaga del suicidio che è particolarmente sentita nelle zone interne della Campania, qual è il significato di questi confronti che avete avviato? È l'esigenza di stare appunto dentro i problemi, di non parlarne solo dall'esterno. Il bescovo è molto preoccupato, in questi mesi trascorsi voleva essere informato sui suicidi e ogni volta che sente che un ragazzo, una persona adulta, ha tentato e è riuscito a suicidarsi veramente ti accorgi che vive il sapere questa notizia con sofferenza. L'Irpinia è un caso strano perché abbiamo il maggior numero di suicidi rispetto alle province italiane in una regione, la nostra, la regione campana, che invece è la regione con meno suicidi d'Italia. Allora deve esserci un problema e i problemi di solito innanzitutto si guardano bene, si legge bene la traccia e poi si tenta qualche soluzione, anche aiutati da qualche esperto. Questa volta abbiamo coinvolto il dottore Alfonso Leo che lavora in neuropsichiatria infantile dell'ospedale Moscati e che si è interessato appunto dei casi di suicidio. Ecco, in sinergia con chi su questo argomento lavora abbiamo deciso di prendere questo problema come un problema della Chiesa e abbiamo cominciato almeno a capirlo e a parlarne, che già è tanto. Io ho visto lunedì sera lì al Parco Palatucci, in maniera silenziosa c'erano, che io conosco almeno due o tre famiglie di ragazzi e ragazze che hanno perso la vita nel suicidio e che stavano lì ad ascoltare. Che non è una cosa... nessuno li ha invitati, nel senso noi li abbiamo contattati uno per uno, ma hanno capito che ecco, quello era il posto dove ascoltare è una parola buona, è una parola... un tentativo appunto di soluzione, di comprendere il problema. Ecco, speriamo che queste famiglie, nonostante il lutto che stanno vivendo, ci aiutino anche loro, ci diano una mano a capire qual è il problema e quindi semmai nei limiti insomma da affrontare. Certo, iniziativa sicuramente molto significativa. Intanto dicevamo in apertura l'uso dei simboli religiosi in politica, fa discutere da un italiano l'atteggiamento assunto negli ultimi tempi dal ministro dell'interno Salvini, con il quale lei peraltro ha polemizzato per altre vicende relative all'immigrazione. Salvini che baci il rosario e che chiede la protezione del cuore immacolato di Maria, insomma come valuta questi atteggiamenti? Ma è triste, io non mi sentirei di vietare, di censurare, perché voglio dire, ognuno fa quello che vuole nei limiti della legge, insomma. E Salvini non fa niente in questo caso contro la legge, semmai è qualcosa di triste che un politico debba usare i simboli di questo. Noi contestiamo la teocrazia iraniana, dove la religione coincide con lo Stato, è qualcosa che non ci piace a noi occidentali, perché noi abbiamo combattuto, insomma abbiamo lottato perché lo Stato sia diviso dalla religione, ed è bello insomma vivere in uno Stato laico dove ciascuno possa esprimersi come vuole, può credere, non credere, nel rispetto generale. Ecco, mostrare i simboli religiosi, lasciamolo ai preti, ai gruppi religiosi, ma un politico deve fare i voti sulle idee e su quello che riesce a fare, non usando i sentimenti appunto religiosi delle persone. Io mi aspetto che i cattolici si rendano conto che sfruttare appunto il rosario, il crocifisso, il cuore immacolato di Maria per far voti è una cosa triste e quindi è un motivo per semmai pensare di votare altro. E tra l'altro lo ha bacchettato anche Conte, sottolineando che il suo atteggiamento offende i credenti, lei condivide? Sì, io mi sono... Lei si è sentito offeso da questo atteggiamento? No, figurati se uno si sente offeso per questo, capisco Conte, nel discorso c'entrava. Io più che offeso mi sono intristito perché voglio dire non lo faccio nemmeno io che sono preti, io cerco di ragionare con i fedeli, no? Sarebbe semplice anche per un prete sfruttare, utilizzare alcuni simboli per stimolare le persone a fare questo o quell'altro. Non lo facciamo noi preti. Diventa fanatismo poi appunto. Sì, diventa fanatismo, rasenta il fondamentalismo islamico, che non significa si fanno per forza atti di terrorismo, ma il sistema è lo stesso, ecco, i fondamentalisti islamici fanno leva sulla devozione religiosa per far saltare in aria i kamikaze. Ecco, noi, per fortuna Salvini non arriva tanto, però il sistema è lo stesso e quindi è triste, cioè lasciamo la religione appunto ai preti, agli imam e ai rabbini e i politici facciano i politici, facciano voti con le idee, con i problemi che riescono a risolvere. Ecco, la questione migranti sulla quale dicevo in precedenza, lei ha più volte polemizzato proprio direttamente con Salvini, questo paese sta perdendo la sua umanità, secondo lei, insomma a giudicare dal clima che si registra. Questa è la conseguenza dell'altro, cioè se tu metti in campo i simboli religiosi, poi devi essere coerente con quei simboli religiosi. Il rosario snocciola i misteri della vita di Gesù. Se tu ti confronti con quei misteri non puoi non accogliere il povero, il diverso da te, il migrante appunto. Non puoi far finta di mostrare i simboli religiosi e poi non realizzare quello che quei simboli rappresentano. Cioè è qui che qualcosa insomma si inceppa, che avviene il cortocircuito e io spero che le persone appunto lo capiscano. L'immigrazione come dire, fa parte, il Vangelo dice ero forestiero e mi hai ospitato, ma c'è un'altra frase che a me, come di, ronza in testa da un po' di mesi. La prima parola che Gesù pronuncia chiamando gli apostoli ad essere suoi discepoli è vi farò pescatori di uomini. Che su questa frase sai, i predicatori, i teologi fanno tante riflessioni. Noi nel caso dell'immigrazione veramente siamo chiamati a far questo, cioè quello per cui siamo stati scelti dal Signore, aiutare gli uomini a salvarsi dall'acqua. Cioè un pesce nell'acqua sta nel suo ambiente naturale, tirarlo fuori significa ammazzarlo. Un essere umano nell'acqua sta in un ambiente che lo ammazzerebbe e noi cristiani siamo chiamati a tirarlo fuori. È chiaro che lì Gesù allarga il discorso e parla del male, quando tu vedi una persona affogare nel male devi aiutarlo a venire fuori. Ecco, ma mai come in questo caso l'esempio coincide anche con quello che praticamente dobbiamo fare, cioè tirar fuori dall'acqua i migranti. Poi si può ragionare sulle leggi, sulla redistribuzione, qui la politica deve fare il suo mestiere, ma la prima cosa da fare è salvare le persone che stanno a negare. Certo, una cosa dell'umanità e un'altra è la questione politica riferita all'immigrazione. Per chiudere questa nostra intervista, Vitaliano, come sta cambiando la diocesi di Avellino con il vescovo Aiello che mi pare aperto ai cambiamenti e capace di dare anche, come dicevo in apertura, segnali concreti alla comunità locale. Ma sta cambiando la chiesa con Papa Francesco. Ecco, lui all'inizio ha pronunciato una frase che è un programma, parla di chiesa in uscita, cioè una chiesa che non deve ripiegarsi su se stessa, non deve parlare a se stessa e basta. Una chiesa che deve avere il coraggio di uscire dalle chiese, dalle sacristie e andare e tuffarsi nei problemi di questo nostro mondo, a volte sporcandosi le mani, sporcandosi le vesti, sporcandosi pure la vita, ma in fondo Gesù Cristo ha fatto questo, cioè si è incarnato nella nostra storia, non è che ha aspettato un momento di storia ideale per incarnarsi, si è incarnato in quel momento storico e noi dobbiamo fare altrettanto. Papa Francesco, come dire, per tutta la chiesa universale, la chiesa di Avellino ha avuto provvidenzialmente la fortuna, ma mi sembra, come dire, la coerenza di questo momento storico di vita della chiesa di avere un vescovo che seguendo Papa Francesco appunto si occupa oltre che della processione del 15 agosto, della devozione alla Madonna Assunta, della messa al Parco Palatucci alle 9 di sera per chi torna dal mare, cose belle e interessanti, ma si occupa anche di problemi che probabilmente qualche anno fa li avrebbero riservati solo a pochi preti, poi semmai puniti pure perché si occupavano di questo o quell'altro problema che si diceva non fa parte del nostro impegno. Ecco, la vita, la chiesa è incarnata nella vita, nelle città e quindi ne assume tutti i problemi, anzi soprattutto quelli che ti fanno sporcare veramente la vita, però è questo che è il compito della chiesa e io spero che continuiamo così. Perfetto, grazie dunque a Domitaliano della Sala, Parroco di Mercogliano che è stato nostro ospite per questa intervista, grazie regia ad Orlando Matarazzo, grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito, arrivederci.